L'innovazione è disruption. Assoluto bisogno quando fino al momento prima un utente non ne aveva le esigenze. Spesso l'innovazione vuol dire anche tempo per farla comprendere ai tuoi clienti finali, ai utilizzatori finali, si propone qualcosa di completamente nuovo e disruptive. Innovazione, innovare, sono concetti labili e difficilmente definibili, non solo a livello teorico. Come si fa a capire quando si sta facendo vera innovazione? Forse abbiamo trovato la persona che può aiutarci. Guido Scorza, avvocato del FEMI, la federazione italiana Micro Web TV, specializzato in informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie, ha fondato l'Istituto per le politiche dell'innovazione. Il manifesto che presenta il progetto si apre con una frase illuminante. L'innovazione è un bene comune. Noi siamo partiti dall'innovazione è un bene comune fondamentalmente sulla base di una riflessione. L'innovazione è uno strumento, l'innovazione è una strada che porta ciascuno ad andare nella maniera più efficace possibile verso il proprio obiettivo. Per cui l'innovazione è un bene comune sta a significare esattamente questo. Non appartiene a nessuno, è qualcosa che va incentivata semplicemente per consentire ad ognuno di raggiungere nella maniera più efficace il proprio obiettivo. In quest'ottica opera l'Istituto per le politiche dell'innovazione. Come funziona? Quali sono gli obiettivi che si pone? L'Istituto per le politiche dell'innovazione nasce fondamentalmente con l'obiettivo di fare in qualche modo da trade union tra società civile rappresentata sia da società che da singoli cittadini che vogliano in qualche modo utilizzare l'innovazione per l'appunto come chiave di realizzazione personale o professionale o piuttosto di business che sia e le istituzioni. Quindi l'idea dell'Istituto è rappresentare una sorta di think tank che metta in contatto le esigenze della società civile con le istanze dei regolatori in maniera tale da avere delle norme, delle regole che promuovano l'innovazione anziché frenarla. Purtroppo in Italia è molto più frequente che le regole siano anti-innovative e non competitive piuttosto che pro-competitive. Parlando di innovazione, le web tv possono essere un esempio di se stesse di innovazione o sono un mezzo che permette di fare innovazione? La web tv è innovativa quanto all'idea intanto, cioè una televisione per la prima volta che viene dal basso e che ha la portata di un click e alla portata di tutti, questo è probabilmente il carattere innovativo delle web tv. Per il resto naturalmente è soltanto uno strumento, l'importante dal punto di vista dell'ordinamento è che comunque consenta l'utilizzo quanto più facile, agevole, fruibile possibile di questo strumento. In Italia, sin qui non sempre è stato così, l'auspicio è che le web tv entrino in maniera diffusa nel nostro panorama culturale e informativo perché sono degli straordinari mezzi per raccontare delle storie di contiguità con il territorio che andrebbero altrimenti perdute come ci insegna oltre un trentennio di televisione tradizionale e nazionale. Il 24 febbraio al Senato si è tenuto un incontro voluto dal FEMI per discutere sulle nuove regole del diritto d'autore che Agicom sta per varare. Le piccole web tv sono direttamente interessate da questo tema particolarmente delicato. Cosa è emerso dal confronto? Ciò che è emerso è la ferma convinzione da parte di tutti i protagonisti del mondo della cultura dell'informazione in Italia in relazione alla quale il diritto d'autore vada sicuramente tutelato ma la tutela del diritto d'autore non deve in nessun caso trasformarsi in uno strumento sensorio rispetto alle istanze di libertà di informazione. Grazie per la visione!